Si parla di crisi di consumi, di questa raffica dei sconti che benché siamo a inizio stagione già partono, già sono partiti nei negozi del centro, d'altronde sono con Piero Franchini che è un esperto di ripresa economica, c'è poco da essere esperti, c'è poco da essere allegri. Allora pensiamo già al Natale perché so che ieri c'è stato un incontro per le illuminazioni di Natale. No, l'incontro ci sarà lunedì con l'assessore Dringoli appunto perché si è verificato una situazione un pochino così strana perché diciamo che negli anni passati abbiamo sempre avuto problemi per l'illuminazione perché la ditta che le faceva praticamente tramite un altro intermediario e praticamente creava sempre problemi perché in una strada pagavano 250, in un'altra pagavano 100, in un'altra pagavano 200. Si parla pro capite. Pro capite per ogni negozio. E quindi quest'anno un'associazione che è la Confesercenti ha preso in mano la situazione e ha fatto un progetto di illuminazione per tutta la città a 60 euro a negozio. Però da parte dei miei colleghi commercianti, magari quelli che fanno anche i saldi perché giustamente ora è un momento di crisi, ci sono un sacco di problemi, non so per cosa, quindi praticamente diciamo che possono risparmiare più della metà con un discorso abbastanza chiaro perché poi tra l'altro chi è che fa l'illuminazione è la stessa ditta, quella che montava anche per quell'intermediario degli anni passati. Quindi non capisco perché. Poi dopo, insomma, se certe cose si fanno gli sconti, si fa i saldi anticipati e poi certe altre cose non si vogliono risparmiare. Non l'ho capito perché. Allora, intanto mi sembra un'iniziativa carina nei confronti dei commercianti che ove volessero aderire a questa illuminazione pubblica per il periodo natalizio, scendere a 60 euro da quelli che erano i costi di 150 euro se non sono capito male dell'anno scorso, si tratta di fare un buon investimento a una spesa più che ragionevole. Hai un numero di riferimento per chi volesse aderire? No, tanto c'è una ragazza tra l'altro che la ditta che farà l'illuminazione ha assunto per fare proprio questo giro e quindi sta passando in tutti i negozi facendo firmare chiaramente un piccolo contrattino che prevede che poi, ecco, questa azienda oltretutto garantirà anche per i prossimi anni lo stesso prezzo. Quindi non lo so perché ci deve essere... Vabbè, noi ad Arizzo siamo tutti partiti. Ar pensaci su quello che hai fatto l'anno scorso e soprattutto mi sembra di dire che potrebbe essere quella famosa luce che si intravede in fondo al tunnel quella natalizia per rilanciare i consumi e conseguentemente il commercio. Grazie Piero. Ar pensiamoci.